Il titolo 3 del rapporto annuale 2022 approfondisce la lettura delle trasformazioni demografiche e familiari. L'ampliarsi del deficit tra nascite e decessi, la contrazione del saldo migratorio, hanno innescato una fase demografica recessiva, accentuata dallo squilibrio di una struttura per età sempre più invecchiata. Sono aumentate le famiglie, ma si è ridotto il numero dei componenti. Al centro-nord, le coppie con figli non rappresentano più la tipologia prevalente, essendo state superate dalle persone che vivono da sole. Al contempo sono aumentate invece le nuove forme familiari, le coppie non coniugate, le famiglie ricostituite, i single non vedovi e i monogenitori non vedovi. È proseguito inoltre lo spostamento in avanti di tutte le tappe cruciali della vita degli individui, a cominciare dall'uscita dei giovani dalla famiglia d'origine. Sul fronte dell'immigrazione, l'ultimo decennio è stato caratterizzato dalla polarizzazione tra il radicamento sul territorio dei migranti arrivati nei decenni passati e da un rilevante mutamento dei nuovi flussi di ingresso. Gli ingressi per motivi di lavoro si sono ridotti in misura consistente a fronte di una crescita dei migranti in cerca di protezione internazionale, di cui i profughi ucraini sono solo l'ultimo tragico esempio. Sono cresciuti numericamente i cittadini di origine straniera che hanno acquisito la cittadinanza italiana e tra questi i giovani. Molti ragazzi, italiani e stranieri, immaginano il loro futuro al di fuori del nostro paese. Si tratta di un aspetto da non sottovalutare, perché rischia di far disperdere un capitale umano preziosissimo, soprattutto per un paese che invecchia sempre di più e sempre più rapidamente.